Dog Stars, il posto in cui i nostri amici a quattro zampe si sentono coccolati e amati come a casa, anzi meglio che a casa. Dog Stars è il nuovo centro aperto in via dei Udici Bus, centro benessere e luogo amichevole di ritrovo, punto vendita di prodotti di eccellenza sia sotto il profilo nutrizionale che estetico. Spazi ampi e comodi, ambienti in condizioni igieniche perfette, staff professionale preparato, amante dei cani, fedeli accompagnatori in questo rilassante viaggio tra mille servizi. Tutto ciò si coglie subito già l'ingresso in un contesto speciale ed elegante dove ti accolgono i sorrisi e la competenza, anche la trasparenza, perché pure questo è Dog Stars, porte trasparenti, l'interno che si apre all'esterno, il laboratorio sotto lo sguardo del patroncino, anche un monitor in alta definizione per guardare l'attività in corso con il proprio cane. Dog Stars perché è un centro benessere per i nostri amici a quattro zampe dove è possibile trovare la massima professionalità, abbiamo a disposizione una waiting area dove i nostri amici possono rilassarsi prima e dopo il grooming, è possibile assistere nella massima trasparenza a tutte le fasi del grooming, quindi bagnetto, asciugatura, tose, tagliaformici, tutto quello che serve per il benessere dei nostri piccoli amici. Da Dog Stars sarà possibile fruire di toilettatura in un laboratorio dedicato con professionisti del settore e di una specialissima spa con ozonoterapia per la cura della pelle e del pelo, con una waiting area in cui i cagnolini potranno sostare in un ambiente comodo e familiare ma saranno anche a disposizione dog parking, cioè servizio diurno, dog sitting, dog taxi, laddove fosse necessario prelevare il proprio cagnolino anche a domicilio per poi riaccompagnarlo. E poi una linea speciale di profumatori per ambienti, croccantini canagan venuti in esclusiva, antiparassitari, shampoo e prodotti di eccellenza per la pulizia dei denti, persino spazzolinea oltra suoni. Il tutto seguendo le parole d'ordine dell'innovazione, della tecnologia, della funzionalità rispetto agli obiettivi da raggiungere. In un ambiente sicuro, vicino ad arei verdi, senza neanche problematiche di traffico e parcheggio. Un posto magico per cani ma anche per gatti, con musica soffusa e coinvolgente, un piccolo paradiso, ma un piccolo paradiso reale. Dog Stars è proprio così. Dog Stars perché c'è professionalità, perché il mio cane si sente a suo agio, in casa sua, trova coccole, accoglienza e questo è il massimo che i nostri amici a quattro zampe potrebbero trovare.